Anzitutto voglio ringraziare le ragazze che sono andati in campo che ci hanno dato grande disponibilità, poi la partita dal punto di vista d'atto e cosa va in secondo piano per quello che sono le situazioni in questo momento. Sono allenatore del Catania, sono arrabbiato questa situazione perché non me l'aspettavo. Ho fatto delle scelte importanti per essere allenato del Catania e ne sono orgoglioso. È una situazione che mi auguro che il nove possa, so che la società si sta adoperando a 360 gradi per poter dare la possibilità di intraprendere dal nove una strada ben precisa. Vedremo cosa succederà il nove per iniziare a capire cosa vogliamo fare e dove vogliamo arrivare. Abbiamo ben in mente cosa vogliamo fare e dove vogliamo arrivare. Questa è la cosa che è il pensiero di tutti e è il pensiero anche mio. Buonasera, buonasera. Dichiarazioni flash altrettanto come calcionate flash che puntualmente alle 15 inizia, sarà l'ultimo lunedì perché poi, lo diremo più in là, ci saranno delle novità naturalmente nella gestione del programma. Vincenzo Lacorte come ogni lunedì insieme a Salvo Russo. Salvo, buonasera. Buonasera, buon pomeriggio ai nostri amici. Buon pomeriggio a chi anche oggi sarà parte integrante di questa trasmissione attraverso le nostre pagine social e anche attraverso il numero WhatsApp che vedete in sovraimpressione 340 051 12 86. Mezz'ora come sempre a nostra disposizione. Oggi il tempo è un po' stringato per tutti gli argomenti che andremo a trattare. Il primo l'avete già visto. Sono le parole di Toscano che in qualche modo fanno il punto, sintetizzano una situazione che sta allarmando il popolo rossazzurro. Ne parleremo, cercheremo di capire ancora meglio quello che sta accadendo e cosa potrà accadere nelle prossime ore. Ecco, ricominciamo immediatamente tornando un attimo dietro, riavvolgendo il nastro, anche vedendo le frequenze dove vederci oggi così come in futuro, calcionati i commenti in casa rossa azzurra, va in onda sul canale 1518 del digitale terrestre Sicilia, canale 268 per quanto riguarda l'identica tecnologia però a carattere nazionale, il sito istituzionale www.globusmagazine.it slash video, lo streaming sulle piattaforme Twitch e TV Dream, i social con Facebook e la pagina omonima calcionate i commenti in casa rossa azzurra, le ultime arrivate in casa a Globus ovvero Local TV e Cyber TV per dare modo a tutti i fratelli rossa azzurri di seguirci da ogni donde nel mondo. Naturalmente l'app per gli esperti, per i più giovani, ma comunque per gli amanti della tecnologia con il smartphone Android e Apple potrete vedere tramite Globus Network Italia, programmazione a video e programmazione radiofonica. Quindi possiamo andare avanti parlando un po' di queste dichiarazioni di mister Toscano, arrabbiato, sorpreso da questo momento di impasse, una fiduzione, ricordiamo brevemente che questa fiduzione non è una novità perché si fa ogni anno due volte all'anno qualora ce ne fosse bisogno, ma nel caso degli ingaggi del Catania il bisogno naturalmente c'è, parliamo di una fiduzione di 4 milioni e 200 mila, quindi a fronte di un mondo ingaggi di circa 11 milioni e 500 mila Euro, perché? Perché sappiamo che per regolamento la fiduzione di 360 mila Euro versata all'atto dell'iscrizione serve a garantire gli stipendi sino al primo milione, superato questo limite di un milione tutto ciò che è in eccesso va coperto da un'ulteriore fiduzione che copre il 40% dell'intero a montare, che sfora il limite di un milione prima detto. Ora è chiaro che il Catania le ha fatte queste fiduzioni, le ha fatte a settembre scorso, le ha fatte a gennaio, quando con tutta quel popò di gente che si trovava in casa tra infortunati e i riottosi ai trasferimenti, ricordiamo bene che c'era chi voleva restare ugualmente sebbene la società gli proponesse qualcosa, poi sono arrivati anche i nuovi, parecchi nuovi e anche costosi come altri che già ce n'erano, quindi questa fiduzione a gennaio era stata già ampiamente coperta. Ora è chiaro che magari si è andati anche un po' oltre, però voglio dire che non è una novità questa della fiduzione, c'è stata sempre, magari ha stupito il modo di come è stato porto l'argomento alla conoscenza di tutti. Allora, evidentemente c'è stato un deficit di comunicazione all'interno stesso della società, con i vari soggetti. Poi magari cinque secondi li spenderemo per chiarire meglio quando si parla di fiduzione effettivamente di cosa stiamo parlando, perché tu hai detto poco fa, è chiaro che queste sono tutte regole imposte naturalmente dalla federazione che ogni anno si ripropongono, soprattutto in fase di mercato. È anche vero che fino a ora, questo ci è dato sapere, la società e quindi Ross e Pelligra di fatto hanno corrisposto e hanno coperto poi questa situazione con dei bonifici. Questa volta si parla di fiduzione, ma tecnicamente, lo dico a te che sei anche esperto del settore, cosa cambia? Tecnicamente è stato chiamato in causa il Monte dei Paschi, che dovrebbe essere l'organismo bancario italiano, quindi molto gradito alla Lega, molto gradito alla FIGC e alla Lega in seconda battuta, per cui si può ottenere questo titolo, questa garanzia, come? Con una lettera di patronage, cioè il Monte dei Paschi, istituto italiano, chiede alla banca australiana corrispondente, tramite questa lettera di patronage letteralmente cosiddetta, di avere i fondi per emettere questa fiduzione, quindi un bonifico internazionale per avere in tempi brevi la possibilità di produrre la fiduzione. La fiduzione di sé non è che va pagata, cioè non è che perché io sborso 4 milioni e 2, io ho pagato 4 milioni e 2, normalmente si chiede un corrispettivo in titoli, questa è la garanzia che chiede un istituto bancario, quindi il denaro è tuo, ma rimane tuo, non è che tu lo stai pagando, quello che si paga nel caso di una fiduzione è una piccola commissione per il servizio, stiamo parlando di bazzecole per una somma così importante, che non ha nulla a che vedere con la spesa, quella non è una spesa perché il denaro tuo è, tuo resta, in quanto partito ottiene una fiduzione. Assolutamente, e quindi diciamo allora dove sta l'inghippo, se l'inghippo si tratta, il cavillo anche da questo punto di vista, se per quello che ne sappiamo, per quello che sono in questo momento la cronaca di quello che stiamo raccontando, che non solo noi naturalmente, anche tutti i colleghi eccetera. Dove sta probabilmente l'inghippo? Se questa somma, se questa fiduzione che dovrebbe partire dall'istituto di credito australiano sia in effetti stata prodotta e quindi c'è solo un momento di impasse dovuto magari ad una serie di controlli e di verifiche, o se invece non è ancora partita. Ecco, forse è questo il nodo da chiarire. Sì, c'è stato magari un piccolo desideramento nella tempistica, ecco, che ha prodotto tutto questo stress da dichiarazioni varie, più o meno recepite, più o meno descritte in maniera puntuale. È chiaro che il 9 è una scadenza, non è che c'è una penalità se si produce il 9. Cioè il 9 fa parte dei termini. La penalità è quella di non avere la possibilità di avere i nuovi contrattualizzati a disposizione. Perché parliamo dell'altro lato della medaglia. Questo è il discorso economico, no? Abbiamo parlato come si produce la fiduzione, che costa molto poco. Qual è l'altra faccia? L'altra faccia è che tutti i giocatori contrattualizzati nel mese di luglio non possono giocare sino a quando, entro il termine massimo del 9 agosto, questa fiduzione approvata dalla federazione non venga poi acquisita dalla Lega per metterla nel proprio portafogli. Ed è la conseguenza che sta sotto gli occhi di tutto nella prima uscita stagionale ufficiale del Catani in Coppa Italia, che ha visto proprio, tra un po' vedremo pure le immagini, Anche richiamare di tutta fretta è gente inimmaginabile, no? O comunque gente che la società stessa aveva dichiarato in un subbero e che non rientrava nei piani. Sono stati aggregati anche dei giovani della primavera. Sette che sono arrivati nottetempo il giorno prima da Sisi, infatti. E qui c'è l'altro nodo, perché questa situazione evidentemente è esplosa un po' nelle mani della dirigenza di chi regge le fila qui in Italia, cioè nelle mani di Vincenzo Grella. Evidentemente neanche lui si aspettava questo stop in maniera così repentina. Evidentemente anche qui c'è stata una mancata comunicazione alla base, perché è stato evidente che fino a due giorni prima la squadra stava lavorando ad Assisi per preparare l'impegno di Coppa Italia con le strategie che nel frattempo, quelle di campo toscano, stava limando con tutti gli uomini a disposizione. Con tutti è un eufemismo, perché poi sappiamo che molti infortuni gli hanno tolti una bella quota. Però avrebbe avuto a disposizione altre persone. Anche perché questo avrebbe consentito a Toscano e a tutti gli addetti ai lavori di valutare appieno il mese di lavoro che si è fatto ad Assisi in vista proprio della nuova stagione. Tutti si chiedono, poi andremo anche a vedere sui social cosa dicono i nostri amici, cosa può accadere a questo punto in concreto? Cioè effettivamente in questo momento questo stand-by sta provocando mugugni, inutile dire, perché l'assessore Parisi si è fatto avanti al nome della città, ha detto senza mezzi termini, ha chiesto chiarezza, che si faccia chiarezza, è un incontro faccia a faccia con Rosso Pelligra quanto sarà possibile. Perché di questo poi parliamo, in concreto a 20 giorni dalla partenza del campionato, al momento la situazione del Catani è questa. Per non parlare poi eventualmente, ma noi siamo sicuri, certi, che la situazione che in questo momento appare ingarbugliata si risolva. In realtà è di lì per sbrogliarsi, diciamo, assolutamente. La cosa che ha messo molto paura, salvo è stato quello che vedendo questo margine del 9 agosto in evaso, per esempio, ci sono delle penalità importanti, no? Non solo vengono ricusati i contratti, e questo sarebbe una cosa gravissima. E questo sarebbe gravissima. Vengono addirittura dati dei punti di penalità, che sono almeno uno. Poiché viene segnalata alla procura l'operazione, può scatenare altri deferimenti a chi ne risponde, a chi risponde giuridicamente alla società. Quindi c'è tutto un contesto che noi vogliamo ben allontanare e che ha programmato il panico. Molti qui mi scrivono, ringrazio tutti gli amici che ci stanno scrivendo, 11 milioni sono troppi, è vero, ma tengono conto anche di tutti quegli ingaggi che noi ci auguriamo, per come era stato detto all'inizio di campagna, vengano poi defalcati, no? Vengono poi eliminati perché in surplus questo 11 milioni e mezzo attualmente tiene conto di Carmine, di Teglio, di Chiricò, di Costantino, di Martura. Voglio dire, non sono tutti da 350 mila, ma certamente da 200 mila, 200 mila. Tutto questo aumenta il mondo degli ingaggi. E' chiaro che se domani questi ingaggi dovessero diminuire il Catania, può in qualsiasi momento chiedere l'adeguamento della fiduzione, e questo può essere fatto anche in corso di conclusione del campionato. Man mano che passano i mesi, la fiduzione naturalmente ha meno, come dire, peso minore, perché non c'è più bisogno di coprire in maniera così massiccia. Soprattutto all'uscita di molti di quei contratti importanti. Per cui alla fine il totale vero non dovrebbe essere di 11 milioni e mezzo, ma molto di meno. Perché se questi giocatori non previsti dai piani di Faggiano e della società finalmente uscissero, e ancora ci sono trattative in corso, poi ne parliamo, è chiaro che questi 11 milioni e mezzo diventano di meno. Sì, è anche vero che questa situazione complica maledettamente le cose sul mercato, sia in entrata che in uscita. Lo avevamo detto anche la settimana scorsa nel mercato in entrata, ha subito quantomeno un rallentamento, perché effettivamente si doveva valutare bene questa situazione. Così come il mercato in uscita, però, si può complicare, nel senso che adesso le società che si sono accostate ad alcuni giocatori del Catania, per così dire, in esubero, è chiaro che faranno di tutto per avere dei vantaggi, sfruttare al meglio la situazione, cosa che il Catania, insomma, nella persona di Grella e anche di Faggiano, hanno detto senza mezzi termini, che non si prestavano a questo gioco, che è un po' il gioco delle parti, no? Sì. Di chi acquista e di chi vende, perché ognuna delle due parti cerca di avere un minimo di vantaggio, di trarre benefici in questo caso dal punto di vista economico del Catania, e eventualmente di fare l'affare, per così dire, tra virgolette, di chi compra. E questo è anche dovuto appunto al fatto che i procuratori spingono in un certo senso, la società Catania FC non ha intenzione di svendere o di addirittura regalare i propri tesserati, e questo sta un po' complicando le cose, sta, lo dicevamo, nella logica anche di mercato, no? Non solo nel calcio, anzi, nel calcio funziona proprio così. Però è chiaro che questa situazione, dicevamo, sta allarmando parecchio, e anche perché dal punto di vista della programmazione, di quello che era stato il programma neanche tanto celato, perché poi le mosse del Catania che sono state fatte a giugno avevano indicato un percorso. Una strada ben delineata, sì. L'avvento di Faggiano e di Toscano hanno dato un segnale importante, cioè di una società che puntava decisamente ad un campionato di vertice. Toscano premio panchina d'oro dell'ultima stagione. Le dichiarazioni che abbiamo sentito però poco fa di Toscano ci fanno capire che al momento la situazione all'interno pure dello staff tecnico, quantomeno di allerta, lo stesso Toscano, ha fatto capire senza mezzi termini che nel malaugurato caso di un cambio di strategia, di passo, di ridimensionamento del progetto, Toscano ha fatto capire che insomma non resterebbe… Non gli piace molto questa idea perché è venuto per vincere probabilmente… È venuto anche con un certo progetto, per vincere è chiaro… È chiaro che piace a tutti, specialmente lui. Però è venuto con un certo progetto… Magari due anni fatti bene, però non con questa partenza così incerta, così nebulosa. Comunque si poteva fare un discorso più ampio, nel senso di dire stiamo progettando una stagione a media scadenza per capire se invece nel caso di un non raggiungimento immediato dei risultati si può andare avanti per la prossima stagione con una programmazione che può anche essere letta in tanti modi. Assolutamente. Però di fatto è questo. Mercato… Chiudo. Sappiamo pure che nelle prossime ore è chiaro ed evidente che Grella, Faggiano e Toscano si incontreranno. Mercato che per concludere ora comincia ad essere solleticante anche nel caso delle uscite, perché a seguito di tutta questa bailam si sono fatti i nomi di Castellini, il nome di Bois, come pezzi pregiati da poter valere soldini importanti per arrivare a questi famosi 4 milioni e 2. Però, ricordiamolo, in tanti 4 milioni e 2 non sono un pagamento ma sono dei denari propri che vanno investiti sotto forma di fiduzione. E poi vi ricordo che in caso di vendita non è che il denaro sia a tutta disposizione immediatamente, addirittura ci sono anche tre tranche. Tutti i contratti a denaro, cioè compra vendita, vengono sempre divisi in tre tranche. Quindi non è che il denaro arrivi subito nelle casse per cui dice faccio 2 milioni, 4 e 2 ne devo mettere. Non è così il discorso. Il 4 milioni e 2 è denaro proprio che va messo in garanzia. Non c'è un pagamento da fare in assenso, la fiduzione costerà un migliaio di euro, non di più. Quindi davvero stiamo parlando di altre cose. Castellini e Bois sono al momento nell'occhio del ciclone per quando sarebbero clamorose vendite perché non previste all'inizio di stagione. No, anzi, tutt'altro. Anche se di Bois le voci c'erano, di Castellini pure, che erano interessanti, giovani interessantissimi, però ora bisogna vedere se veramente verranno presi in considerazione. Leggiamo qualche messaggio? Su Castellini, sì, nel frattempo che tu vedi i messaggi, su Castellini è chiaro che al momento c'è l'attenzione massima perché la situazione viene valutata da quelle società che già avevano chiesto il calciatore. Si parla di società importanti, Napoli e Bologna, su tutte. E allora salutiamo sicuramente Luigi Panetto, Carmelo Zuccaro, Mauro Vaccaro, Carlo Annino, Marco Fonte, che si meraviglia di questa somma enorme, poi ancora Andrea Scuderi, Antonio Nicolosi, secondo me Pelligra appena torna manderà via Grella, questa è un'altra delle voci molto ricorrente nei social, ma non possiamo sapere che è il livello di attentabilità a questa notizia, Marco Fonte, il punto più grave che la società doveva comunicare in anticipo, che c'era questa difficoltà, non scoprirla l'ultimo giorno, più che difficoltà io la chiamerei appunto una discrasia temporale, cioè non c'è stato un fissare bene i paletti dal punto di vista cronologico per non portare questo stress naturalmente, un po' a tutti i livelli. Antonio Nicolosi è ancora semu senza completino, la prima di campionata la giochiamo col pigiama, in realtà quella maglia bianca non era la maglia d'allenamento, perché la maglia d'allenamento è azzurra, azzurra scura, quella è una muta arrivata apposta con tanto di stemma, però chiaro non quello ufficiale, così come per chi si lamenta perché ancora non ci sia la Petsch, la Coccarda, Coppa Italia, queste vengono inviate dalla Lega Pro, quando sarà il momento? Il Catania da quel momento le potrà esibire. Per quanto riguarda le maglie, sappiamo che non c'è ancora stata comunicata una data ufficiale, ma che saranno presentate in sede, quindi evidentemente anche per una questione di sponsor tecnico si deve magari necessariamente attendere la presentazione ufficiale. Ci sono dei passi dovuti. Per Mauro Vaccaro in pratica il mondo ingaggio può arrivare a qualsiasi cifra purché si abbia in esercizio una garanzia chiamata Fetio Iossone, esattamente quello che abbiamo detto. Carmelo Zuccaro... Questo è un problema che riguarda tantissime società, tanti sport anche. No, no, ma anche in Serie C, nello stesso girone, credo che il Benevento abbia lo stesso problema. Il Benevento è stato uno dei primi casi sollevati addirittura a giugno, perché aveva un mondo ingaggio simile al nostro, già prima della chiusura della stagione 2023-2024, perché l'articolo e colletto è stato fatto ai primi di giugno e la stagione si chiudeva il 30 giugno. Quindi, assolutamente. Carmelo Zuccaro, senza parlare della campagna abbonamenti, ecco, campagna abbonamenti, una nota dolente. Questa è una nota dolente. Perché siamo a un giorno, mi pare, dalla chiusura, si chiude oggi la prelazione? Sulle date adesso... Mi pare che sia oggi, o da oggi addirittura scatta la nuova... Eravamo a circa 3.000... Sì, 3.000 e qualcosa. ...e 600 che siamo veramente molto lontani da... Siamo già lontani. Dai, dai... Però è chiaro che questa situazione, la situazione attuale non aiuta in prospettiva. È chiaro che adesso i tifosi pretendono risposte, pretendono chiarezza, per poi continuare eventualmente la campagna abbonamenti, magari per arrivare ad una cifra che, in serie C, è sempre considerevole, ma certo lontana. Ma questo lo possiamo dire perché a naso no, già i dati si capiscono. Insomma, siamo lontani, saremo lontanissimi dai 14.000... Sicuramente, ma sicuramente. Marco Fonde, scherzandoci su, parlando sempre delle magliette, dice che le magliette non dipendevano dalla fiduzione. E quindi ci trova un attimo scherzoso. Assolutamente. Vediamo qualche altro commento ancora. Chi se li prende i giocatori con ingaggi da 250-300.000? In pratica nessuno, dice Carlo Fonte. Poi ancora, oggi non c'era una riunione tra Toscano, Faggiano e Grella. Come finiva? Non so a che orare iniziava, non so a che orare finiva. L'ho anticipato prima, dicendo che in queste ore, tra oggi e domani, quindi non c'è una comunicazione. Esatto, esatto. Non sappiamo se è in corso, se deve ancora iniziare. Magari l'hanno già fatta, ecco. Se Toscano se ne va, richiamano Lucarelli, visto che ancora il libro paga. Questa sarebbe Gianni Scursoni, Gianni Scursoni, che salutiamo. Salutiamo anche Francesco Lippo. Qui abbiamo il pallone, però non è una palla di vetro, quindi non possiamo avere delle risposte. Francesco Lippo chiama il Catania, fino alla fine supera chi segue il Catania, solo perché la squadra della città d'esta preoccupazione ci può stare. Infatti, chiarezza massima e ripartiamo. Catanese Fabiuccio, credete che la gente ha spenti ancora di stare in Serie C? Ho i miei dubbi. Antonio Scuderi ci saluta, è ottimista, la cosa sia giusta, però questi disguidi non depongono bene. Ancora Andrea Scuderi, arriverà un direttore generale, una figura che si aspetta, perché si è parlato più volte di questo problema del marketing, ma un marketing senza direttore generale, quale indicazione dovrebbe ricevere? Il direttore generale è una figura essenziale dal punto di vista amministrativo dell'Australia? Allora, diciamo che in questo momento il quadro dirigenziale del Catania FC è un po' sotto l'occhio del ciclone, per tanti motivi. Quelli che arrivano dall'Australia, i rumor sono che arrivano dall'Australia, che fanno capo all'holding Pelligra, ma ci sono anche voci contrastanti che arrivano dall'interno della società su quelli che sono alcuni ruoli. Noi stessi abbiamo letto spesso commenti da parte dei nostri amici su quello che è il reale ruolo per esempio di Mark Bresciano. Adesso su Mark Bresciano molti dicono che non sarà prossimamente che verrà sostituito, così come non c'è ancora chiarezza sul nome del direttore generale, che pure è una figura importante. Che a questo punto del camionato mi sembra assurdo che arrivi, perché anche lui dovrebbe dire la sua in tante cose. Quindi a volte ci sono dei passaggi, così come il direttore marketing. Molti hanno lamentato il fatto che quest'anno la campagna abbonamenti non ha avuto nessun impatto mediatico. Negli anni precedenti sotto la gestione Pelligra invece è stata presentata con una campagna ad hoc. Con una campagna ad hoc, eccetera, eccetera. Fotografie, video, eccetera. Sì, anche con l'incontro direttamente. Interessante quest'ultimo commento di Marco Fonte e poi andiamo immediatamente alle nostre schermate come sempre preparate dall'ottimo Turi Ferrigno in alias Salvo Ferrigno, scusa, Turi Compagnia. Marco Fonte, sono passate 48 ore dalla notizia, alla società Open League non hanno fatto uscire nessun comunicato per dare delle esplicazioni. Altro errore. È una cosa che francamente un po' lascia a pensare. Sì, però attendiamo perché è chiaro che il comunicato verrà fuori. Il contraccolpo è stato forte. Questo incontro al vertice in questo momento qui a Catania tra Grella, Toscano e Faggiano e credo che questo sia propedeutico poi a capire quali sono le strategie, le mosse da seguire di concerto con la proprietà, con Rosso e Pelligra che in questo momento è in Australia. Dopo questo ulteriore confronto io credo che verrà fuori un comunicato o comunque una nota o comunque l'impegno magari... Stando che ci diranno la fiduzione è stata consegnata. E questo... Questo dovrebbe essere il primo... Questo è il primo passo. Il primo passo, infatti, assolutamente. Senza quello allora... Veramente abbiamo parlato di aria, di aria, assolutamente. Andiamo con qualche schermata che andiamo verso la chiusura. Vediamo un po' cosa possiamo procorre ai nostri amici. Sempre volato. Li chiami tu? Allora, diciamo che... Tanto ci sono due ultime... Due ultime non ufficializzazioni perché non se ne possono dare. Perché in questo momento... Anche perché questi qua di agosto se ancora aumentano il mondo ingaggi avranno bisogno di un'ulteriore fiduzione. Va a peggiore la situazione, è chiaro. Quindi ricordiamo che tutti i contratti stipulati ad agosto la fiduzione va chiusa entro il 9 settembre. L'eventuale fiduzione suppletiva. Andiamo con i nuovi arrivati... I nuovi arrivati che sono arrivati nel senso che si sono già aggregati al gruppo in quelle di Assisi e che quindi sono rimasti a lavorare insieme a tutti gli altri sono Gabriele Lunetta, esterno, sinistro. Ecco, eccolo qua. Classe 96 proveniente dall'Ecco. Eccolo qui, questa è la schermata. Giocatore di fascia, tutta fascia. Sì, e la strategia in questo caso di Faggiano è chiara perché con Lunetta è arrivato l'altro esterno, quello di destra che è Davide Guglielmotti. Eccolo qua. Eccolo qui. Stessa situazione sulla fascia destra. Sì, quindi vediamo che insomma... Anche lui Lecco. Anche lui Lecco. Carriera che stiamo vedendo lì tra C e B. Altro esterno, quindi il progetto tattico di Toscano è chiaro, Faggiano è intervenuto. Chiaramente, al di là di questo, gli altri nomi, tipo quello di Guido Gomez che dovrebbe provenire dal Crotone sono un attimo in stand-by così come quello di Adriano Montalto. Questo è Gomez, vedete... Quella maledetta punta che servirebbe ancora a Catania atteso che D'Andrea ne avrà per un bel pezzo. È chiaro che in questo momento, appunto, se si deve completare il mercato, se si potrà completare il mercato, è chiaro che in questo caso le pedine che mancano sono proprio lì davanti e quindi manca la punta centrale. Detto questo, io credo che abbiamo solo il tempo per riassumere tutto quello che è successo e che potrebbe accadere. scongiurando, di fatto, il pericolo numero uno, cioè quello che al 9 di agosto non si trovi la soluzione perché a quel punto davvero la situazione si complicherà tantissimo. Che non si trovi un divieto di transito nella strada ma un senso unico che ci porti verso qualcosa di positivo. In modo da non rendere caldissima questa estate che è già rovente e speriamo che alla fine tutto questo si traduca in un temporale estivo e null'altro. Quindi questo è un momento la situazione. Noi ci fermiamo qui come flash, come calcionate flash, andiamo in vacanza pure noi, pronti a tornare con il solito cliché, il solito appuntamento del lunedì serale, quindi dal 26. Dal 26 che poi è il post-gara della prima di campionato. Possiamo rapidamente riassumere anche questo, cosa ci rimane di questo agosto calcistico, chiusa l'avventura Coppa VIP, perché ricordiamo che non faremo il secondo turno, causa l'eliminazione per 2-1 di questa partita. Abbiamo parlato poco, abbiamo partito poco, è chiaro, eravamo 1-1 fino a pochi minuti prima, questo poteva aprire la strada ai calci di rigore. Diciamo che al di là di tutte le difficoltà, mi sembra il 16 agosto, il 18, il 18 agosto la Coppa Italia di Serie C, si entrerà con la vincente tra Crotone e Messina. Si giocherà al Cibali. Perfetto. Dopodiché il 24 prima di campionato, a Potenza ma contro il Sorrento, come già avvenuto l'anno scorso e qui il nostro salvo ne è sicuramente primario a Torre insieme a Gaetano, e quindi lunedì programmazione serale classica, un'ora di trasmissione e post-partita, post-gara della prima di campionato. Questo è un po' il tutto. Allora, noi andiamo in vacanze, però l'informazione su Calcionate, i commenti in Casa Rosso Azzurra sulla pagina Facebook saranno sempre puntuali e attenti. In caso di novità, di ulteriori notizie e aggiornamenti, noi saremo pronti a darvi tutto in tempo reale. Quindi non perdete i contatti, non perdete il contatto principale appunto con Calcionate, i commenti in Casa Rosso Azzurra su Facebook. per questa stagione, mini stagione estiva, noi ci siamo, ci siamo presi questo impegno e l'abbiamo mantenuto. È stato una sorta di ritiro di Calcionate come in Casa Rosso Azzurra. Grazie naturalmente al nostro direttore ed editor Enzo Stroscio, a Filia Stroscio che ha come sempre curato la redazione, grazie a Gaetano Ligreggi che ha curato la parte tecnica e la regia. Grazie a Salvo Ferrigno per quello che ha fatto, ci ha dato veramente grande aiuto con queste grafiche interessantissime che ci ha proposto. Grazie naturalmente a chi ha interagito con noi, a chi ci ha seguito con molta visione. Sì, ma ad oggi incluso. Fino ad oggi, grazie a Vincenzo Conte. Grazie a Salvo e a Fra Pochi Giorni. Domani naturalmente la replica in chiaro su Sette Gold, Top Calcio 24, sempre alle 15. Canale 15. Canale 15 del Digitale Terrestre. Grazie. buon ferro a costo. Grazie a tutti, buona serata e a presto. A presto. Grazie a tutti.